Simone, con il tuo esordio sei diventato il più giovane esordiente azzurro dell'ultimo secolo, al terzo posto sul podio assoluto della Nazionale. Ci racconti l'emozione che hai provato? Certo, allora l'emozione è stata sicuramente forte, tanta, perché è un sogno che ho sin da quando sono piccolo e è stato tutto molto bello. Il Cittimancini ti ha detto qualcosa di particolare prima di entrare in campo? No, no, il mister non mi ha detto nulla, penso per farmi giocare tranquillo. Immaginiamo che tu abbia ricevuto tantissime chiamate, però ti chiedo, qual è la prima chiamata che hai fatto? No, ho chiamato subito mia mamma, poi mio padre e mio fratello. Tu hai bruciato le tappe, ma con l'Under 17 hai già realizzato quattro gol. La tua esperienza nelle giovanili azzurre, quanto è stata importante per arrivare fin qui? Molto, perché è stato un trampolino e ringrazio tutto lo staff dell'Under 17 perché è anche merito loro se sono qua. Ti chiedo, come sono stati questi giorni di raduno? Il gruppo, come ti ha accolto? Allora, il primo giorno è stato un po' strano per me, poi tutto bene è andato, tutto liscio e loro sono stati subito molto gentili con me. Andrea, cosa significa per te esordire con la maglia azzurra? Esordire con la maglia azzurra penso che sia un traguardo che tutte le persone che iniziano fin da piccolo a giocare a calcio sognano. Arrivarci in questo momento per me significa tanto, è un motivo di orgoglio e di tanta soddisfazione. Te l'aspettavi? È stato tutto così rapido? Sei arrivato martedì, poi mercoledì, anche se per pochi minuti, subito l'esordio? No, completamente inaspettato proprio perché, come hai detto te, sono arrivato dopo gli altri, quindi sapevo di partire dietro, quindi devo ringraziare il mister per avermi dato la possibilità di realizzare questo esordio. Hai una dedica particolare? Ma allora sarebbe quasi scontato dire per la mia famiglia, perché sono le persone che sono sempre con me, sono le poche che mi sostengono anche nei momenti dove le cose vanno meno bene del solito, ma un'altra dedica particolare per Mino Raiola che aveva sempre creduto in me e sapeva che sarei arrivato a questo traguardo. La tua esperienza nelle giovanili azzurre, quanto è stata importante per la tua crescita? Tantissimo, ho sempre detto che chi ha la fortuna di giocare nelle nazionali giovanili impara tanto perché è un tipo di calcio completamente diverso rispetto a quello nazionale che si fa nei campionati giovanili con Italia, quindi avere la possibilità di confrontarsi con altri paesi diventa tutto molto importante e aiuta sicuramente la crescita di ogni giocatore. Ogni esordio qui a Coverciano è sempre bagnato da una prestazione canora più che prima di scendere in campo. Ti chiediamo qual è la canzone che hai portato? Ho cantato Alba Chiara di Vasco Rossi per il fatto che sapevo che era una canzone molto conosciuta e quindi i compagni mi avrebbero accompagnato quando iniziamo a cantare. Come te la sei cavata? Poteva andare molto peggio. Poteva andare molto peggio.